Ciao amici di Goricia TV, ecco qua, sono a Lignano col mio generale a prendere un po' di freschetto perché era veramente freddo cari amici, 12.03.2023, adesso fate attenzione, vai col parlato e adesso c'è il generale c'è anche il generale, fa un po' freddo generale, un po' di aria no? però guardate un po' al mare, volevamo andare a nuotare però abbiamo deciso di no perché fa un freddo veramente bestiale ragazzi guardate un po', vi faccio vedere un attimo terrazza a mare là che stanno lavorando, guardate un po', adesso qua non vedete neanche una sedia a sdraio, niente proprio stanno preparandosi in piena, guardate che roba là l'albergo che ci andrò io di prima classe, sì col cavolo ecco questa, guardate un po', Lignano, è Lignano cara, aspetta che giro fa veramente, a par che fa veramente freddo ragazzi c'è un vento, un vento bestiale ecco hai messo? bene amici, vieni, vieni, sono di qua, vieni di qua guardate che freddo, volevo andare a nuotare ma ho deciso che è meglio che un altro giorno perché fa veramente freddo, ho fatto il freddo, non sono freddo l'oro sin natura faccio io il mare perché voglio soltanto i 30 di agosto bene, allora cari amici vi faccio un bel salutone e ci vediamo al prossimo, non ci stiamo veramente quel caldone ciao ciao chiudo con? sì, chiudi con la pausa? sì ciao